Ciao, questo video foto lo dedico a voi per le feste e quando lo guardate pensate un po' che a me. Vi voglio bene a tutti, buon Natale e buon Anno. Musica maestro! Mi dispiace, ho dato via alla musica, ma purtroppo i professori sono andati a casa, allora vi dovete accontentare questo video senza la musica. Io credo che va bene lo stesso. Ciao, di nuovo buon Natale e buon Anno a tutti. Vi voglio bene. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.